Su 150 persone controllate, solo tre sono state trovate sprovviste dei dispositivi di sicurezza. I salernitani, insomma, sembrano rispettosi delle regole contro il contagio, come emerge dalla massiccia operazione di controllo effettuata ieri dai carabinieri della Compagnia di Salerno, guidati dal Maggiore Adriano Fabio Castellari, che questa mattina, presso la caserma di Via Duomo, ha tracciato un bilancio dell'operazione che ha riguardato in modo particolare nella zona orientale del comune capoluogo i quartieri di Mercatello e Sant'Eustacchio e ha portato risultati anche in altri settori. Obiettivo comune è stato quello di aumentare il senso di sicurezza partecipata in tutti i cittadini alle prese con l'arrivo del prossimo coprifuoco. Questa è una delle nostre operazioni di controllo del territorio che stiamo svolgendo in questo periodo anche con maggiore incisività, non solo per la classica prevenzione e repressione dei reati, ma anche per il controllo del rispetto della normativa Covid. Ieri ci sono stati risultati decisamente importanti, abbiamo effettuato diversi posti di controllo rinforzati sia in quartiere di Mercatello che in zona di Sant'Eustacchio, che nelle zone a ridosso dei Monti Picentini, sempre per dare ai cittadini una immagine di sicurezza integrata e condivisa che dia una maggiore percezione di tranquillità nonostante il difficile periodo. Sono state controllate oltre 150 persone, oltre 90 veicoli. Nell'albero di questa attività tre persone sono state ritrovate sperviste dei DPI, quindi sono state sanzionate ai sensi dell'attuale normativa. Altre cinque casi di sanzioni al corice della strada. In più in questa attività di pressante controllo abbiamo trovato un arrestato domiciliare al di fuori della previa abitazione che è stato prontamente rintracciato e quindi tratto in arresto. Inoltre abbiamo proseguito con dell'attività di iniziativa nel campo delle sostanze stupefacenti. Una ragazza in zona di via salvo d'acquisto è stata segnalata per l'articolo 75, mentre a San Mango Piemonte è stato ritrovato un piccolo deposito di stupefacente, parliamo di circa 350 grammi frasce e marijuana, 1.550 euro in contanti. Il soggetto è stato trattato in arresto. Particolarità, viva con sé anche due noccolieri e due tirapugni che sono state parimenti sequestrate unitamente al resto della merce. Comandante, posso chiederle anche dal suo punto di vista il bilancio. I cittadini sono attenti ai nuovi dispositivi? Trovate spesso persone non in regola? I cittadini sono sicuramente attenti, lo stanno dimostrando una resilienza veramente fuori dal comune. Si vede anche nel naturale decremento delle sanzioni che stiamo idrogando sia alle persone che ai locali, segno comunque di una maggiore responsabilità acquisita.